Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, ragazzi siamo con Alerek, siamo nell'Autumn Survival E ragazzi oggi siamo nello speciale Halloween e dove vedete ora questa bella piattaforma faremo la pixel art di una zucca per restare in tema Halloween Abbiamo già ampliato la coltivazione di pecore, infatti qua le abbiamo fatte diventare arancioni Perché abbiamo trovato dei tulipani, questo è proprio il simbolo del tulipano, che abbiamo trovato dentro tipo il bosco dall'altra parte E un po' sull'altra isola, e tipo, che cazzo è? E niente quindi, oddio, alevia! Alevia! Bene non cazzo, volevo dare un arco, volevo dare un arco Ok, allora, niente, quindi partiamo subito con la Lascialo là, vabbè, ok Ok, poi ci metto dentro Ok, dopo allungalo, metti la sopra Aspetta fammi salire, fammi salire! E guarda che sei strano No, sono scordato anch'io Vai, ok Quindi Poi facciamo così Così, Ale Aspetta Aspetta che devo guardare, aspetta che devo guardare Rosso, c'è il rosso Eeeh, sì Guarda se ne manca uno, mi sa No, Ale, quattro, eh, infatti No, è giusto No, così, deve essere quattro questo Ok, è me storto così No, no, aspetta, forse infatti ne manca questo qua Ale, è giusto Ok Ok, poi Ok Una volta finito quello manca Questo Poi, qua Ok Ah, perché non mi è uscito Eeeh, seri problemi mentali Ok Poi, aspetta, vediamo a che punto, eh Ok Che parte della bocca non riesco a vedere io qua Aspetta un attimo Ok, inizio a fare la cosa qua Sopra così Ok Ok Questa qua La bocca è finita Adesso, eh, chiudi te di là Io chiudo di qua Eh, aspetta però Non riesco a guardare No, non si vede Figa, non riesco a vedere più Ah, più che non si vede Ok Aspetta Uno Poi aspetta Eeeh, ora qua A che livello siamo? Siamo sul coso della bocca Sul coso della bocca Eh, eh, eh Siamo sul coso della bocca Eeeh, superiore Uno, due, tre, quattro Deve portare le scale Uno, due, tre, quattro Ok Ok, giusto Quindi Quindi così Eeeh, così Ok, perfetto Uno, due, tre, quattro Così, Ale Aspetta che qua manca il pistolero Secondario Ok Sì, sono in cantiere Cambiamo Ok Eeeh, poi così 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 Aspetta che mi sono incastrato Ok Così E adesso ne metti il marrone qua Così Uno Eeeh, due, due Ecco No, due, due No, no È sbagliato Sì, è giusto, è giusto Lo sto guardando io Ok È giusto Due Poi lana E altri due No, tre Uno, due Mettine uno Dove? Qua, giù Appena qua giù Sì Ok, tre Ora riempi Riempi tutto fino in fondo Fai tutta la striscia di merda qui Così Ecco Sì, e vai a fare A riempire giù di là E qua Eeeh È leggermente vuoto qui Sper Ok, così Ah, devo Eh Aspetta che c'è un casino Cioè Riempi tutto di lana Non fa ridere, cazzo Ok, uno Poi È ok Vaffanculo No Eh, se non è Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aspetta Infatti mi sembrava un po' Strano Ho detto E infatti lì è da uno, eh Guarda Cico, hai sbagliato No, è giusto Solo che l'occhio L'ho fatto leggermente Troppo grande Guarda È uno al lato lì Non ne do due Eh, ma perché Noi pensavamo che fosse così Facendo la parte di là Così Ah, che cazzata Ah, che cazzo Sì, mi serve leggermente Ah, ce l'ho È giusto Just ora andiamo verso di qua Aspetta 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 Da qui da uno Pirla Tu il sistema è in alto Aspetta Eccolo Ok Ti lasso così giusto No Ma perché Vaffanculo Eh, eh Bisogna togliere solo l'ultimo In alto Il resto è tutto giusto Sì Questo qua va tolto No, no Cì, ma Di là anche Di là Va tolto No No, che fallo Dai, lascia Che vado su io Ok ragazzi Allora Dopotanto Allora Aspetta 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 Torna giù Torna giù No Dobbiamo fare Ah, il pistolino lì Sì, ma Ale non si capisce Dove è l'occhio Aspetta Aspetta Che ti elimino Uno Due Sì, è giusto Ok, qua Ok Quindi Uno Due Tre Uno Due Un Due Ok Ok Ok, finito Ok ragazzi Eccoci qua Abbiamo finito Abbiamo illuminato tutto E questa è la pixel art Di Halloween Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre Scrivetevi Commentate Lasciate un bel mi piace Passate dal canale di Alec Che sarà in descrizione Vi auguriamo buon Halloween a tutti E bella